Musica Usa la lemetta analogica sinistra e la lemetta analogica destra per controllare il carro Muovila entrambe in su per avanzare, in giù per indietreggiare e in direzioni opposte per ruotare Per sparare premi il tasto R1, dovrai eliminare sei carri armati per ultimare il lavoro Ecco, il sedile deve andare ancora più indietro Ok ragazzi, sono nel carro Ricordati, per avanzare usa le lemette analogiche Per indietreggiare muovila in giù, per ruotare muovila in direzioni opposte Premi il tasto R1 per sparare Sperate il potere di Super Mario 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 Siete fritti, tesorini! Buon lavoro, Murray! Ora i mercenari se ne staranno buoni per un po'. Come pensi di accedere ai computer quando saranno senza energia? Secondo il generale Clawfoot, in fondo a questo corridoio si trova una fonte di energia mobile. Corridoio è un termine fin troppo gentile. Sembra la valle delle forche caudine. Beh, sì! Anche se l'idea di attraversare una cripta piena di spuntoni e lame affilate mi spaventa, anzi, mi terrorizza fino al midollo, è l'unico modo per alimentare il vecchio terminale nella torre di rieducazione. Se non lo attiveremo, non riusciremo mai a prendere gli occhi di Clockwork, né a liberare Carmelita. Molto coraggioso, Bentley. Cerca solo di non far sminuzzare dalle trappole la tua corazza di tartaruga. Ma perché dici così? Ciao! Ehm... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti prenderò, Contessa. Perché continui a ripeterlo? Tanto non ci riuscirai. Sono serissima. Ti prenderò. Ti prenderò, ti prenderò. Dico sul serio, ti prenderò. Ah, sì, almeno così credi. Fuori uno. Ancora due. Devo evitare di essere ferito mentre trasporto questa batteria verso gli altri terminali. È pur sempre piena d'acido. Ok, sono pronto a un'altra seduta di pirateria informatica. Non ci prenderò, non ci prenderò. Non ci prenderò, non ci prenderò. Non ci prenderò, non ci prenderò. Sì, anziché del tuo conscio. Potrebbe aiutarmi a eludere il tuo superio. Ancora uno e posso andarmene via. Non ci prenderò, non ci prenderò. Non ci prenderò, non ci prenderò. Grazie a tutti. Ispettrice Fox, perché lottare? Non vuoi essere mia amica? No, brutta mucca con otto zampe! No! Il vecchio terminale è alimentato! Il mio compito qui è finito! No, brutta mucca! No, brutta mucca!